Un pareggio giusto, una spartizione della posta che consente ad entrambe di avvicinare il traguardo della salvezza. Iesina e Giulianova hanno giocato a viso aperto e alla fine l'uno a uno rispecchia perfettamente l'andamento della partita e non fa torti a nessuno. Decisivo il primo minuto di recupero di entrambe le frazioni di gioco, con i locali in vantaggio poco prima del fischio che avrebbe mandato le due squadre a prendere un tè negli spogliatoi, con il Giulianova da ciuffare il pari prima del triplice. Gara condizionata da un terreno di gioco reso viscido dalla pioggia che per tutta la giornata è caduta sul Carotti. Del Giulianova è piaciuto il pressing alto, l'aggressività a metà campo, ma anche la predisposizione ad un gioco comunque offensivo e non rinunciatario. Tuttavia gli spunti offensivi sono sempre nati da lanci in profondità, così come per la Iesina, questo perché la diga al centrocampo di entrambe le squadre ha funzionato tutto sommato bene. Per una buona mezz'ora sono comunque giallorossi ad impensierire i padroni di casa. Al ventunesimo Gaetani si trova tu per tu con Tavoni, che è bravo in uscita a chiudere lo specchio della porta all'attaccante della formazione giuliese, che al trentacinquesimo ci prova dalla distanza con Censori, con la palla che termina sul fondo. Il finale di tempo è tutto di marca Iesina. L'occasione buona capita sui piedi di Traini al quarantaquattresimo, quando viene servito in profondità, ma il controllo non è dei migliori, pensando forse ad un fuorigioco. Traini protagonista un attimo dopo, falso mette in angolo. Ed è proprio sugli sviluppi di un secondo corner che la Iesina trova il vantaggio. La difesa abruzzese libera male, Marini quasi in caduta riesce ad indirizzare la sfera verso la porta. Nulla da fare per falso. Nella ripresa, dopo appena cinque minuti, il Giulianova ha l'occasione per riacciuffare il pari, ma Gaetani, da posizione favorevole, manda al lato. Giorgini toglie un difensore, Testoni, ed inserisce una punta a De Matteis, cambio che risulta azzeccato perché la pressione giallorossa aumenta. Al tredicesimo, bel gesto tecnico proprio di De Matteis, con apparata di Tavoni, ma l'azione è inficiata dalla bagnerina alzata del secondo assistente. Alla mezz'ora, doppia occasione per la squadra ospite, che in una manciata di secondi colpisce per ben due volte i legni, con De Matteis e con Nassi. Giulianova arremmante, con ordine, ma sfortunato. Al trentaseiesimo, sborgia, nega il raddoppio ai locali, salvando sulla linea, mentre nel primo dei cinque minuti di recupero arriva il pari del Giulianova, lo firma di Pasquale, che spizza di testa un attraversone di censori, un pareggio che non fa una grinza e un punto che avvicina entrambi alla permanenza in Serie D.